Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Non è neanche passata una settimana da quando Delia Duran è entrata nella casa del grande fratello VIP6 e già, inevitabilmente, si parla di lei. La modella venezuelana, moglie, di Alex Belli è entrata come concorrente il 14 gennaio scorso. In quella occasione, il conduttore Alfonso Signorini ha invitato Soleil Sorge ad accogliere la new entry e subito il clima si è fatto teso, considerando la chimica artistica, di Sorge e Belli, quando quest'ultimo era ancora un concorrente del reality. Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute, ha esordito Delia. Soleil è sembrata totalmente indifferente. Quindi Lady Belli ha spiegato. Dici una cosa e poi ti contraddici da sola. Adesso voglio comprendere. Il vostro rapporto è stato limpido. Anche sotto le coperte eravate puri. Sicura che anche li eravate limpidi. L'ex corteggiatrice di uomini e donne è scoppiata a ridere. Stai parlando a Vanvera. Non capisco nulla di quello che stai dicendo. Sei qui nella casa per fare le tue solite scenette. Allora Durana ha aggiunto. Guarda che Alex mi ha detto la verità su quello che è successo sotto le coperte. Adesso devi dire la verità e ammettere quello che è successo. Sei falsa. Perché non dici quello che è successo sotto le coperte? Dillo se dici di essere vera e sincera. Sei coerente. Allora racconta cosa avete fatto. Cosa è successo sotto le coperte? È veramente squallido tutto ciò ha replicato Soleil. È successo tantissimo sotto le coperte. Abbiamo riso. Abbiamo parlato. Durana ha quindi cominciato ad urlare. Brava. Bravissima. Finalmente. Ma tutto ok. Alex mi aveva detto che stavi poco bene ma veramente così mi preoccupi. Ha ribattuto Soleil. La modella venezuelana è una furia. Ecco. Io questo volevo. Perché tu sei una che predica bene ma rosica male. Si dice razzo la male. La ripresa immediatamente Soleil. Sapevi che ero sposata e sei andata oltre con mio marito. Sappiamo tutti e tre quello che è successo in quel letto. Alex me lo ha detto. Io non sono scema e neanche la gente lo è. Ha aggiunto Delia. C'è stato un momento di sbandamento. Ma non c'è mai stata intenzione di fare altro. Nessun atto sessuale pesante. Ha quindi concluso Soleil. E dallo studio Alex Belli ha aggiunto. Vi invito a riflettere. Avete tempo per parlare e capire.